In questo video tutorial per i trasferimenti per la scuola secondaria di secondo grado andremo a far vedere come si compila la sezione A per l'anzianità del servizio. Entriamo nelle istanze online, andiamo al trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado e andiamo alla voce Inserisci. Andando alla voce Inserisci andiamo in una sezione dove troveremo la compilazione delle diverse sezioni della domanda. Anzianità del servizio che è la parte di questo video tutorial che vedremo come si compila poi ci saranno anche le altre sezioni tipo esigenze di famiglia, titoli generali, precedenze, scelta del tipo di posto che è obbligatoria, i requisiti, le preferenze e l'indicazione degli allegati. Andiamo a vedere proprio come si compila la prima sezione, ovvero l'anzianità del servizio. Nella prima casella, qui sulla destra, troverete da poter inserire il numero di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina in ruolo di appartenenza. Io faccio un esempio, il mio, sono 14 anni di ruolo nello stesso grado di istruzione e per la stessa addirittura disciplina. Comunque basta per il grado di istruzione, cioè secondaria di secondo grado. Poi la casella numero 2 invece vede gli anni di servizio di ruolo prestato in ruolo diverso da quello di appartenenza. Per cui se io sono titolare in una scuola secondaria di secondo grado e avessi fatto un servizio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, dovrei mettere il numero di anni di ruolo che ho passato in questo altro ordine di scuola o grado di istruzione. Io nel mio caso non ho ruolo prestato diverso da quello della secondaria di secondo grado, dunque devo mettere 0 anni. Non ho retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio, per cui anche qui 0. Nella casella numero 3 invece si parla del servizio pre-ruolo prestato in ogni ordine o grado di istruzione. Nel mio caso ho 13 anni di pre-ruolo prestato sempre nella scuola secondaria di secondo grado. Ma ripeto, si accumulano anche i pre-ruoli prestati in altri gradi di istruzione o addirittura in altri ordini di istruzione. Tutto il servizio pre-ruolo va nella casella numero 3. Nella casella numero 4 invece si mette la continuità del servizio prestato nella scuola di titolarità. Questo bisogna che ci sia almeno 3 anni di effettivo servizio prestato nella scuola di titolarità escluso l'anno in corso. Tra l'altro l'esclusione dell'anno in corso va pure nella prima casella. Cioè la casella numero 1 è sono 14 anni escluso l'anno in corso. Nella, ripetiamo, nella casella 4 va la continuità del servizio. Io per esempio sono 8 anni di servizio continuativo escluso l'anno in corso che presto servizio nella mia scuola di titolarità. Dunque metto 8. E nella casella invece 5 è riservata solo ai docenti che hanno prestato servizio nei posti di sostegno con titolo di specializzazione. Per cui lo abbiano fatto quando erano di ruolo o in altro ruolo o in pre-ruolo. Oppure con retrattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio. Io qui non ho servizi e dunque non metto niente. La casella numero 6, per concludere, è il punteggio aggiuntivo di 10 punti, il così chiamato bonus di 10 punti. che si applica solo a quei docenti che nel periodo che va dal 2000-2001 fino al 2007-2008 per almeno un quadriennio non abbiano fatto domanda di mobilità o avendola presentata l'abbiano revocata nei tempi previsti dalle ordinanze ministeriali. Ecco, questo è come si compila la sezione anzietà del servizio per la mobilità, per il trasferimento per la scuola secondaria di secondo grado. Seguiteci ancora nel nostro canale YouTube, seguiteci ancora nel nostro sito www.tecnicialascola.it perché continueremo a dare informazioni sulla mobilità e a fare video tutorial per la compilazione della domanda. Un saluto a tutti i nostri lettori. Grazie a tutti.